E' stata restituita alla comunità, grazie all'impegno della ditta Mercolini e Torelli, la chiesa dei Cappuccini della parrocchia San Francesco d'Assisi a Pantano, compromessa dal terremoto del 9 novembre del 2022. Per questo il comune ha consegnato alla ditta il plauso della città per aver messo a disposizione i mezzi, il lavoro e le competenze. Le motivazioni sono state lette dal sindaco Matteo Ricce dall'assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci che hanno incontrato i titolari Matteo Mercolini e Fabio Torelli. In seguito al terremoto sono stati ingenti i danni anche in luoghi simbolici della città, tra questi quelli alla chiesa dei Cappuccini, uno spazio di socialità che fa comunità per la sua storia. La volontà della ditta di metterla in sicurezza per Natale è stato un bel gesto per la città, così Pesaro ha dimostrato ancora una volta di avere un grande cuore. Un grande gesto di solidarietà per una comunità come quella di Pantano dove comunque ha collaborato insieme anche la consigliera di maggioranza, Anna Maria Mattioli, e devo dire che questo gesto non poteva passare inosservato anche perché abbiamo visto come la gente ha tenuto conto della bellissima storia che è venuta fuori all'interno della nostra città e questo ci deve solo inorgoglire del fatto che un'amministrazione deve essere presente, deve essere attenta anche alla solidarietà che viene fatta dalle imprese. Abbiamo notato in questi giorni sono usciti tanti articoli di giornale dove gli imprenditori hanno voluto fare dei gesti di solidarietà, ma questo ha colpito più di tutti perché non ha preso all'interno della propria azienda ma è andato in modo più ampio e è andato ad aiutare tutte le persone della comunità dei Cappuccini. Quello che avete realizzato qui a Pesaro è stato un piccolo miracolo di Natale, diciamo così un impegno concreto per dare una mano in un momento difficile che ha permesso a tante persone di poter assistere alla celebrazione della Messa nella chiesa che aveva avuto questi danni. Sì, è andato bene, è partito tutto dopo il terremoto, pensavamo che fosse una cosa sinceramente più rapida, poi è stata un po' lunga la parte progettuale e organizzativa, ma grazie ai parrocchiani, al consigliere Anna Mattioli, all'ingegner Filiaggi che ci ha aiutato molto, siamo riusciti fortunatamente ad iniziare i lavori e poi nella settimana proprio prima di Natale siamo riusciti a completarli, fortunatamente. Oggi quella consegna di questa onoreficenza sicuramente è motivo di orgoglio per tutti voi. Tantissimo, tantissimo orgoglio e da condividere totalmente con i nostri ragazzi, completamente con i nostri ragazzi che hanno tenuto fino all'ultimo, fino all'ultimo ci hanno creduto e hanno dato il massimo. Anche perché dobbiamo ricordare appunto che il momento era quello prefestivo, quindi ancora una difficoltà in più. Una difficoltà in più, sì sì sì, una difficoltà in più.